vuoi assaggiare family ciao ho provato a fare il gelato biscotto è venuto fuori una squisitezza e quindi condivido questa meravigliosa ricetta guarda quanti pochi ingredienti rompi subito le uova nella ciotola aggiungi lo zucchero gira con una forchetta molto semplicemente e aggiungi la ricotta sai che mi piace tanto questo ingrediente negli impasti senza glutine se vuoi non ti vuoi perdere le altre ricette mi raccomando iscriviti al canale sempre con la forchetta crea questa bella pastella cremosa aggiungi l'aroma che può essere anche se vuoi un pochino di cacao oppure del limone oppure dell'estratto di vaniglia e poi a parte setaccia nel tuo mix il lievito istantaneo quello per dolci il mio mix lo trovi alla fine della ricetta nel riepilogo degli ingredienti vai ad aggiungere a questa tua dagli ingredienti liquidi che hai già pronti aggiungi il mix e giri anche qui semplicemente con la forchetta a mano a mano che aggiungerai il mix prenderà forma quindi si indurirà un pochino ma neanche tanto perché viene fuori una cosa molto morbida se ci fai caso questo è un impasto che io veramente uso tantissimo e ci vengono fuori delle dei dolci veramente buoni ho provato questo questi gelati ragazzi sono eccezionali vai sulla spianatoia e forma questo bel panetto è molto morbido guarda che popi popi il dito proprio si affonda completamente vai a dividere perché magari è più facile lavorarlo e fai una bella sfoglia 4 5 mm meglio 4 perché poi la cottura sarà in padella prendi un bel coppapasta e qui ti faccio vedere com'è facile riutilizzare anche i ritagli guarda sono riuscito a fare anche un solo disco comodamente perché poi se aggiungi una spolveratina di mix l'impasto è ulteriormente lavorabile senza alcun problema quindi vai di nuovo a stendere fai i tuoi dischi biscotto nel frattempo metti sul fuoco una padella antiaderente io ho utilizzato quella per i pancake quindi insomma una padella normalissima l'importante che tu abbia un coperchio che chiude bene quando è calda appoggia senza alcun altro grasso senza olio e senza burro i tuoi dischi lascia andare per cinque minuti e poi gira lì ancora per cinque minuti guarda gli ocrono metrati però mi raccomando ecco fai attenzione devono essere così dorati perché poi magari se cambi padella cambia anche la diffusione del calore aggiungi la tua pallina di gelato del gusto che più preferisci e ti dirò in una parte d'impasto messo anche delle gocce di cioccolato e vengono fuori dei simil cookie non so se ti ricordi quel gelato buonissimo biscotto se lo consumi subito è buonissimo altrimenti avvolgilo nella pellicola trasparente lascialo congelare poi lo tiri fuori un pochino in microonde oppure aspetti cinque dieci minuti ed è eccezionale i bimbi sono impazziti ecco le gocce di cioccolato eccole qui ciao family